Segnali positivi dal mondo del turismo. Dopo i numeri importanti registrati nel mese di luglio, ora è un vero boom di prenotazioni. Nonostante la pandemia e le norme anti-covid, rimane la voglia di viaggiare, soprattutto nelle città più tranquille, che offrono iniziative e attività per adulti e bambini, come Fano, dove le strutture ricettive hanno fatto il pieno di prenotazioni. A dare manforte alle presenze è l'esclusione del Green Pass. Infatti, la carta verde non è richiesta per soggiornare in hotel, né per pranzare o cenare nel ristorante al suo interno, sempre che il servizio sia dedicato ai clienti ospiti. È una cosa eccezionale. Noi parliamo di avere delle prenotazioni fino alla fine di settembre. Quello è importante perché abbiamo fatto una buona promozione e il turista ci sta chiedendo le strutture piccole, sicurezza, il buon mangiare, il buon bere. Però abbiamo tenuto nella qualità e il turista è molto contento di questo. Ci sono anche degli eventi che attireranno turisti? I cori polifonici, il raduno dei cori polifonici, il brodetto, il campionato di paracodutismo, il raduno dei biker, il raduno dei ciclisti, perché il nostro, come dico sempre, noi siamo nell'ombelico del mondo, abbiamo tutto a portata di mano, Urbino, Mondavio, Pergola, Gradara. Adesso stanno arrivando, dormono qua e vanno a visitare le grotte di Frassassi. Cecchini poi ha ringraziato il comune di Fanno per la promozione e gli operatori turistici e balneari che ce la stanno mettendo tutta, ha detto. E i risultati si vedono. Infatti, secondo un'indagine condotta da CNA Turismo e Commercio, fino al 19 agosto sono ridotte al lumicino le speranze di trovare un posto per dormire nelle strutture della provincia. Inoltre, risulta che i numeri del mese vacanziero per eccellenza sono esaltanti, addirittura meglio di quelli del 2019. Anche a Pesaro si registra il tutto esaurito. I nostri turisti fondamentalmente vengono dal nord Italia, tantissimi, toscani, romani, ecco, dall'estero ancora poche, poche persone. E per il fine settimana di Ferragosto sono tante le prenotazioni? Fine settimana di Ferragosto siamo al completo. Con queste introduzioni eravamo un green pass, sì, green pass, non green pass, insomma, eravamo un pochino preoccupati, però ecco, la nostra clientela non si è fatta questo tipo di problemi. Sono tranquilli loro stessi e nonostante varie disposizioni e quant'altro, insomma, per le quali possiamo essere d'accordo e non d'accordo, quindi... E con lei non è d'accordo? Dipende, dipende. Io ho fatto il vaccino, non ho problemi a dirlo, eccetera, ma questa situazione del green pass, insomma, mi lascia un po' così. Sì, nonostante che io abbia fatto il vaccino e quindi non ho niente contro a questa cosa qui, però ecco, il green pass è un'altra cosa, secondo me.